Dopo il forte maltempo registratosi in tutta la regione, ora è il momento della conta dei danni. È infatti in corso un sopralluogo dei tecnici delle ferrovie dello Stato sul tratto cosentino della linea ferroviaria tirrenica tra Paolo e Fuscaldo per verificare l'agibilità della linea stessa alla luce delle mareggiate che hanno colpito la zona nelle ultime ore. In particolare in un tratto è crollato un pezzo del muro di contenimento sottostante la massicciata della ferrovia. Al momento la circolazione avviene solo su un binario a senso alternato ed i treni viaggiano ad una velocità ridotta con ritardi quantificati in una quindicina di minuti. La stessa situazione si è riproposta anche nel Vibonese con la violenta mareggiata che ha causato danni importanti in tutta la provincia e nello specifico abriatico. Nel piccolo comune costiero infatti la situazione più preoccupante. La forte mareggiata ha infatti colpito in pieno il porticciolo scaraventando le barche anche a decine di metri di distanza dall'arenile, alcune quasi a ridosso delle strutture solitamente aperte durante la stagione estiva. Riscontrata anche una schiuma anomala sulle coste del Tirreno. Per l'Arpacal sarebbe muco di mare ma il presidente Occhiuto ha richiesto che vengano eseguiti controlli approfonditi. I vigili del fuoco nei luoghi più interessati sono attivi già dalla giornata di ieri non stop. Non si registrano fortunatamente danni alle persone.